ciao a tutti ben trovati a questo video dedicato ad un cantante molto molto bravo un artista di nome paolo baron e all'etichetta music force sono qui per farvi una breve descrizione di quello che l'artista esprime nel suo ultimo album vinacce ma prima di tutto cerchiamo di capirne un po di più chi è paolo baron e come nasce allora sicuramente possiamo dire che è un cantante che fa musica cantautoriale che ha una provenienza dell'italia settentrionale proviene da pordenone è un sicuramente un polistrumentista eclettico autore e compositore e dopo aver suonato con diverse formazioni nel corso degli anni pubblica le sue prime canzoni insieme ad un'orchestra l'orchestra cortile si può definire un incrocio tra caposela tom waits e king crimson perché vi sto dicendo tutto questo perché le sue canzoni sono veramente molto molto affascinanti si verifica una sorta di connubio tra il testo che è quasi satirico per alcuni aspetti e le sonorità le note la musicalità della musica che invece esprime una grandissima profondità questo lavoro non nasce improvvisandosi ma la sua carriera è comunque dettata da una serie di passi che poco a poco lo hanno appunto strutturato in un certo modo dopo l'orchestra e quindi dopo la pubblicazione delle sue prime canzoni si aggiudica anche i premi diversi premi premi friul del 2009 così come l'etichetta che lo pubblica del 2011 musica e furlane forte nel frattempo come se il tutto insomma non lo soddisfasse questo cantante questo artista si dedica alla musica per il teatro partecipa a numerose messe in scena e attività laboratoriali dove nelle scuole nelle comunità sociosanitarie e su cosa lavora lavora sicuramente sull'improvvisazione musicale perché perché l'improvvisazione musicale rappresenta per lui un principio creativo e compositivo nonché ovviamente un vero e proprio tratto d'unione tra la parola e il gesto fonda come step successivo con delle attrici come natali norma fella e paola iello la compagnia harmony sto cocco il cui reading comico stone cold surrender va in scena in diverse sale italiane quindi parliamo comunque di un artista che si è evoluto che ha fatto diciamo ha compiuto dei passi che lo hanno portato a crescere a livello umano a livello musicale a livello teatrale perché no quindi ha modo di confrontarsi anche con degli attori porta il suo spettacolo in diverse piazze italiane e addirittura vince il premio si piazza in semifinale nel premio palladino 2014 allo zelic di milano pian piano la sua evoluzione artistica si evolve e nel 2017 cura con leo virgili e roberto amadeo la sonorizzazione della lettura scenica fuori fuoco di e con chiara carminati successivamente esordisce nel 2012 online come progetto da solista quindi non più con un coro non più con una band diciamo così di cinque brani creando appunto questo primo ep di cinque brani il cui tema comune è l'amore per certi cantatori cosiddetti difficili degli anni 70 e ovviamente ha morbidito il testo e la sonorità d'atmosfere che virano in forma progressiva ora i toni un po di ballad e un po rock ora come nasce vinacce perché ve ne sto parlando e cosa mi ha proprio coinvolto come vi dicevo prima questa capacità di trasmettere una musica molto profonda ricca di sfumature in grado di emozionare con un testo alquanto allegro alquanto se vogliamo scherzoso un po satirico lavorando a vinacce questo nome nasce in modalità veramente molto molto easy gran parte di questi brani infatti prendono forma in una distilleria durante un solitario e faticoso lavoro tra caldaie e alambicchi ma soprattutto ovviamente tra profumi sensazioni e immagini legati appunto ad una vita ad una realtà ad una tradizione quasi anacronistica il lavoro di trasformazione della vinaccia che è materiale di scarto appunto si fa una ideale metafora del lavoro del cantautore che alle prese con i pensieri con la parola spremuta abusata modificata è come dire in grado di dar vita a queste canzoni canzoni profonde se nei testi come vi dicevo prima la disillusione è a volte mitigata da questa forte ironia la musica dà un grande respiro e colore a tutto questo lavoro nel 2015 paolo paron si trasforma in che senso diventa un trio al suo fianco ci sono anche stefano braganiolo alla batteria e roberto amadeo al basso e al contrabbasso l'apporto dei due musicisti ovviamente contribuisce a dar vita ad arrangiamenti diretti e senza fronzoli brani che hanno una vena pop rock carica di sfumature dalle più delicate di vinacce alle più rare fatte come season alle più rabbiose di mani adatte e via bertaldia passando per un funky con un disegno insieme alla liricità di la domenica del supermercato quindi vediamo come il cantante appunto accanto a questi due musicisti comincia a sperimentare appunto dei generi diversi che altro dirvi sicuramente ciò che viene messo in evidenza il suo cavallo di battaglia la sua punta di diamante è un suono naturale con scarna strumentazione una colorazione quasi vintage un qualcosa di molto coinvolgente ecco poco commerciale dei suoni molto diciamo profondi che trasmettono delle emozioni delle sensazioni ecco seguendo questo percorso e ispirandosi al musicista produttore jvan moda scusate non so se lo dico bene nasce appunto vinacce che è un lavoro che termina nel 2017 con l'incontro con Tox Records e Music Force che appunto danno la possibilità di pubblicare questo album pubblicato e distribuito da IGEA bene non so se vi ho come dire coinvolto se vi ho trasmesso una certa curiosità quello che posso dirvi è che trovate sicuramente tutti i riferimenti all'indirizzo www.musicforce.it scrivendo anzi andando a visitare la voce produzioni discografiche e ovviamente avete anche l'opportunità di acquistarlo qui nel video qua sotto vi inserirò tutti i link di riferimento e nel frattempo che dirvi commentate scrivete dove preferite se qui su youtube oppure sul mio blog e e al prossimo video ciao a presto